Il questionario che è stato somministrato agli precedenti partecipanti alle 5 edizioni del master intercorse nel corso del momento della formazione fino a una certa data hanno consentito di mettere un pochino a fuoco e dare una fotografia della soddisfazione delle partecipanti al percorso. Innanzitutto c'è da evidenziare come le aspettative inizialmente non erano strettamente connesse a delle opportunità di carattere lavorativo perché l'approccio con cui ci si avvicina questo master è di tipo culturale, di tipo di conoscenza professionale però le risposte che abbiamo registrato dalle persone che l'hanno già frequentato hanno messo in evidenza una soddisfazione fortissima soprattutto perché hanno ritenuto questa attività formativa estremamente utile nei propri percorsi professionali e questo partendo dalla considerazione che il profilo dei partecipanti al percorso di decisione è il più variegato. Si tratta di laureati magistrali che appartengono alle più disparate discipline andiamo da giurisprudenza fino all'ingegneria, passando per economia, passando per scienza della comunicazione passando addirittura anche per medicina. In tutti quanti i casi della positività di una valutazione è una valutazione estremamente positiva perché è un percorso che aiuta a capire le dinamiche del mondo aiuta a capire le dinamiche e dà una forte conoscenza sugli aspetti riguardanti le cose della vita le cose del proprio percorso professionale. Grazie.